Nell'udienza di oggi il procuratore generale Romolo Como ha svolto la sua replica. La prova testimoniale va valutata, esiste e non è campata in aria, ha detto Como nel suo intervento. Sono state rese testimonianze dirette perché i parenti vivevano accanto alle vittime, quindi non hanno riferito parole per sentito dire né il derelato. Penso un po' all'antica, ma certi termini che ho sentito sulla sentenza sono inaccettabili. Sentenza raccapricciante, squinternata, non potrebbe reggere giudizio di legittimità in Cassazione. Ci sono state critiche esterne, convegni, anche da parte di colleghi, ma devono rimanere fuori dal processo in corso. Si è arrivati a definire criminale il comportamento di qualche giornalista che più o meno correttamente faceva il suo lavoro, ma sembra quasi sia colpa loro delle morti delle persone. Nel sottolineare che se la sentenza di primo grado ha una colpa è stata quella di voler analizzare troppo a fondo alcuni profili giuridici, Como ha anche spiegato che gli hanno rimproverato di aver detto che se si trattava di quattro amici al bar, ma se lo avessi detto avrei dovuto chiedere la soluzione, ha continuato Como. Non lo erano, erano la commissione grandi rischi e siamo qui per questo motivo. Dello scarico di energia si è parlato in presenza di tutti. Secondo il procuratore generale c'è stato anche un atteggiamento di superficialità di fronte alla conoscenza del rischio sismico che invece tutti riconoscono. Como ha preso la parola al termine dell'arringa dell'avvocato Vincenzo Musco, difensore di Gian Michele Calvi all'epoca direttore di Eusentre. Il procuratore generale ha preso la parola in anticipo per l'assenza di Alfredo Biondi, difensore dell'allora ordinario di fisica dell'Università di Genova Claudio Eva, che ha rinunciato alla sua arringa per problemi di salute.